Torneo di Tolosa Torneo di Tolosa, l'Italia operaia ribalta il Montenegro, Belinelli chiude la sfida, 67-66. Vince, senza convincere, l'Italia di Ettore Messina. Il successo finale sul modesto e coriaceo Montenegro non cancella i venti pessimi minuti iniziali degli Azzurri, che pongono rimedio al primo tempo con la voglia e l'umiltà dei Gregari, è il quintetto da combattimento del vice allenatore degli Spurs, Filloi, Aradori, Abbas, Burns e Bilic, che cambia volto alla sfida, dà entusiasmo e fiducia al resto della truppa che, nel finale, grazie al talento individuale di Marco Belinelli archivia la pratica. Torneo di Tolosa Base. Due falli per Hackeyt. Messina è costretto a porvi rimedio con Filloi e la fisicità del neoavellinese Paga-Dazio, anche se l'esecuzione dei Montenegrini mette costantemente in difficoltà le rotazioni italiche. Azzurri che in attacco riescono a trovare discreti tiri, tutti perimetrali, ma senza particolare precisione. Radoncica apre il campo con due triple di fila, alle quali l'Italia risponde con pazienza ed esecuzione, prima Pascolo, poi Belinelli, accorciano, 14-15, ma sono un paio di perse di troppo che lanciano i nostri rivali. Il gancio di Dubljevic sigilla il primo quarto, con la squadra di Tangevic e allunga fino al più sei della prima sirena. Datome in palleggio, foto it al basket Twitter. Il canestro, forzato, in avvio di Datome sembra scuotere l'Italia, che tuttavia omette la difesa sull'uno contro uno di Todorovic, il quale con cinque punti di fila allunga fino al massimo vantaggio, 16-25. E la difesa montenegrina a fare la differenza, in positivo, per i nostri avversari, che aggrediscono gli azzurri costringendoli a tiri quasi sempre fuori equilibrio e schema e da soli due punti nei primi tre minuti di quarto. Belinelli fa gol dalla lunetta, tenendo a galla l'Italia, la tripla di Baldi Rossi riporta gli azzurri a contatto. L'inerzia della sfida tuttavia non cambia, con il Montenegro padrone della sfida fisicamente e mentalmente, Dubljevic e Vucevic allungano dalla lunetta legittimando il dominio a rimbalzo slavo, 24-37. L'Italia perde ritmo, fiducia ad una serie lunghissima di palloni in attacco, Messina prova a correre ai ripari, ma all'intervallo è confermato il più 13 Montenegro grazie al gioco da tre punti di rice. La tripla, costruita degnamente, di Belinelli, apre la ripresa, ma le amnesie difensive azzurre non consentono agli italiani di accorciare ulteriormente, 31-44. I falli offensivi di Cervi e Melli, quarto a testa, sono la perfetta fotografia delle difficoltà italiane a difesa schierata, poche idee e circolazione lentissima condizionano le scelte italiche, che dalla parte opposta, di pura frustrazione, reagiscono di conseguenza. Il Montenegro allunga dalla lunetta con Rice e Seovic, prima dei canestri di Pascolo e Filloi che ridanno entusiasmo all'Italia, 36-45. Gli slavi di Tangevic non si disuniscono e, con Seovic da tre, riprendono le redini dell'incontro. Gli azzurri tornano tuttavia in partita grazie ad un briciolo di intensità difensiva e, la tripla di Acchette ed il canestro di Datome, confermano un minimo di cambiamento di atteggiamento mentale, 43-48. Il ritorno in campo di Vucevic infonde tuttavia serenità all'attacco Montenegrino, che ritrova punti e giocate fino alla tripla di Burns, quasi allo scadere, del 46-53 di fine terzo quarto. Timeut azzurro, fotuita al basket Twitter. Burns prova a metterci l'orgoglio, ed i liberi del meno 5 meno in avvio di quarta frazione, trascinandosi sulle spalle il resto della squadra, mentre il Montenegro che inizia a sbagliare molti tiri aperti ben costruiti. La squadra di Tangevic torna a cavalcare il post basso e la propria fisicità, ma la risposta azzurra è di livello e di presenza, prima in difesa e successivamente in attacco, la faccia dell'Italia cambia, il quintetto da combattimento funziona ed i 5 punti di fila di Aradori fissa il parziale di 10-0 che riporta gli azzurri sul 53 pari a 5 minuti dalla fine. Gli slavi non trovano più la via del canestro e la tripla di Bellinelli vale il vantaggio azzurro, 16 personali. L'Italia mostra il volto aggressivo nel momento decisivo, chiudendo l'area e firmando, con da Tome ancora da 3, il massimo vantaggio, 59-53. La guardia ex Spurs fa ed Isfa, prima trova il più 7 con un'invenzione da 3, poi commette una gravissima ingenuità concedendo gioco da 3 punti ed intenzionale a Dubljewik, 62-58. La squadra di Tangevic resta in partita e di Urisik approfitta della rotazione lenta dell'Italia con la tripla del meno 1. L'Italia si affida alle certezze nel finale, Burns stoppa Dubljewik, Bellinelli piazza la tripla del successo, prima dei liberi di Marco che fissano il punteggio sul 67-66 conclusivo. La squadra di Tangevic resta in partita e di Tangevic resta in partita e di Tangevic resta in partita.